che rapporto c'è in questo momento se vi siete visti, tante domande su di lui se vuoi rispondere altrimenti capiamo non ho problemi nel senso che come avevo detto prima di uscire una cosa che avrei dovuto fare è parlare con lui perché mi sembrava rispettoso nei suoi confronti per la storia di dieci anni che abbiamo avuto insieme l'ho fatto, ho mantenuto la promessa se promessa si può dire abbiamo parlato e niente adesso non ci sentiamo perché come? gli hai ridato le sue chiavi giustamente che ti aveva portato la gara le ridarò a giorni non c'è stato modo sì ce l'ho ancora io ma le ridarò a giorni perfetto con chi veramente hai mantenuto i rapporti più belli con cui ti vedi, ti senti e con chi invece proprio no zero, pensi che non avrei più rapporti vai allora vederci purtroppo con pochi proprio per via del covid però mi sento con Tommaso con Andrea Zelletta con Samantha con Matilde con Carlotta con la quale ci divertiamo da morire quindi non vorrei dimenticare qualcuno ma contentissimi devo dire sono in casa Stefania che abbiamo chiarito quella piccola parentesi quindi sono contenta